R.C.D. Live presenta Live Music Tonight, un programma a cura di Francesco Atlante Beltrami. Buonasera e ben ritrovati a tutti i nostri radioascoltatori. Questa sera vi proporremo un concerto registrato il 14 aprile del 2012 a La Mezzia Terme. Un concerto di un gruppo italiano tedesco degli anni 70, gli Analogi. Gruppo che ha pubblicato durante la sua storia tre LP, che ha suonato dal vivo moltissimo, oltre 400 concerti, e che ha saputo ritrovarsi 40 anni dopo aver vissuto i suoi maggiori fasti, riprendendo il lavoro, pubblicando un'antologia, un cofanetto retrospettivo, The Complete Works, in cui riunisce praticamente tutti i brani che erano usciti nel corso degli anni, e a ritornare sul palcoscenico per una serie di concerti in cui hanno girato l'Italia, ripeto, giusto all'inizio di questo decennio. Il primo dei loro concerti, una volta che si sono ritrovati, è stato registrato alla Mezzia Terme e pubblicato in un CD che è tranquillamente reperibile online. Ebbene, siamo questa sera qui per proporvi i brani proprio tratti da quel CD e farvi sentire la voce di questo interessantissimo gruppo che fa parte della storia del rock progressivo italiano, insieme, tanto per intendersi, ai PFM, al Banco, agli Osanna, agli UT, cioè agli Introlls, praticamente questo è il genere che hanno sempre seguito gli analogi, e sperando di presentarvi un prodotto che, pur risalente alla storia del rock, in realtà possa per molti di voi risultare nuovo e interessante. Ma adesso lasciamo spazio alla musica. Grazie a tutti. 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 ,... a tutti. ... ... a tutti. ... ... ... ... ... ... ... ... ...